Siamo davanti a The Shaman's Irish Pub dove questa notte si è consumato un attentato incendiario. Degli ignoti poco dopo la chiusura del locale, attorno alle 4 e mezza, hanno lanciato una bomba Molotov, una bottiglia incendiaria davanti alla porta del locale, provocando incendi danni, tant'è che nulla, come potete vedere poi anche dalle nostre immagini, è rimasto di questa porta, andata completamente in fiamme. Gli operai sono intervenuti subito e hanno già riparato i danni, dobbiamo dire fortunatamente che l'Aris non ha riportato locali all'interno e soprattutto non ci sono stati danni a persone perché, come vi spiegavamo prima, il locale era stato da poco chiuso e subito dopo si è consumato l'attentato incendiario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sono anche i carabinieri che si stanno occupando naturalmente delle indagini del caso. Hanno atteso che il locale chiudesse attorno alle 4 e 30 per lanciare una bottiglia Molotov dinanzi alla porta d'ingresso, così il portone dello Shaman's Irish Pub, che si trova in zona acqua santa e che a meta delle notti dei giovani aquilani, ha preso completamente fuoco, generando inguenti danni all'esterno, ma fortunatamente non all'interno del locale, dove subito si sono riversati gli operai per rimediare e rendere di nuovo fruibile il locale agli avventori. Danni anche a dei quadri posti all'esterno del locale notturno. A dare l'allarme un vigilantes che si trovava nei pressi dell'Aris nella notte per controllare un magazzino della zona. Sul posto anche i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini e che stanno anche visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso del locale, ma anche della banca che si trova a fianco al pub aquilano, molto conosciuto e frequentato, per cui al titolare la solidarietà di tutti noi e di tutti i colleghi aquilani per questo gesto vile.